Descrivere come supereroi questi personaggi non è l'esatto modo di rappresentare i ragazzi. Erano persone come noi, però dotati di una volontà eccezionale, di un impegno, di uno spirito, di un senso del dovere, il senso dello Stato che dovremmo avere tutti noi e primi fra tutti i ragazzi. Quelle 19 luglio, il giorno della stagia di Via D'Amelio, Paolo Borsellino alle 5 del mattino aveva cominciato a rispondere a delle domande che degli studenti di un liceo di Padova gli avevano da tempo prospettato e risponde alle prime tre domande e poi si interrompe per fare altro e non può più finire, completare quelle risposte. Io dopo 30 anni ho simbolicamente ripreso la penna di Paolo e ho quindi risposto a quelle domande. Mi sono sforzato di riferire tanti particolari inediti della vita di Borsellino e di chi era Paolo Borsellino perché le immagini ageografiche, quelle degli ultimi giorni, sono quelle trasmesse, cioè col volto livido, teso, ancora preso dal dolore della morte del suo caro amico e collega Giovanni, teso a cercare sempre risposte con indagini frenetiche. E io oltre a quello, un momento, voglio far vedere un Paolo diverso. Proprio questo è il messaggio, che descrivere come supereroi questi personaggi non è l'esatto modo di rappresentare i ragazzi. Erano persone come noi, però dotati di una volontà eccezionale, di un impegno, di uno spirito, di un senso del dovere, e del senso dello Stato, che dovremmo avere tutti noi e primi, fra tutti i ragazzi, perché diceva Paolo Borsellino, solo attraverso i giovani, noi possiamo sperare in un futuro migliore della nostra società perché sono solo loro che possono darci la concreta possibilità di un riscatto morale. Falcone era una persona eccezionale, che era capace di vedere delle strategie che altri non riuscivano appunto a intravedere, eppure è stato contrastato dopo la prima fase del maxiprocesso, in cui dicevano la gente fa il tifo per noi, e poi è avvenuto qualcosa che non ci aspettavamo, nel senso che noi pensavamo che sull'onda di quel successo si continuasse su quella strada, invece il sistema, il sistema mafioso da un lato, ma che è fatto anche di infiltrazioni nella imprenditoria, nella pubblica amministrazione, con i professionisti, con anche la politica, bene, quel sistema ha incominciato a contrastare in tutti i campi, sia Falcone che Borsellino, e loro hanno manifestato la forza con cui bisogna risollevarsi da questi momenti e continuare nella lotta a questi mali del nostro tempo. Nella mia vita io ho avuto come principale obiettivo quello di cercare verità e giustizia per tutto il periodo delle stragi, per la strage di Via D'Amelio in particolare, non può sfuggire il fatto che ho avuto il privilegio di raccogliere da Gaspare Spatuzza le prime dichiarazioni che hanno veramente fatto piena luce sulla strage di Via D'Amelio, sotto il profilo organizzativo da parte di Cosa Nostra, della mafia, però ci sono ancora tante domande che aspettano risposte, ancora la verità non è completa e noi continuiamo a cercarle, io non cessero mai di vivere se prima non riesco a arrivare fino in fondo. Questo è qualcosa che noi dobbiamo, dobbiamo alle vittime, perché i ragazzi devono sapere qual è la storia che li ha preceduti per poter evitare che queste cose si ripetano per il futuro. Io non escluderei le commemorazioni, la memoria che deve continuare a persistere altrimenti si cancellerebbe tutto, il problema è che non bisogna fare soltanto quello e basta, ma il giorno dopo la commemorazione, il giorno dopo bisogna attuare quei principi, quei valori, quelle idee che abbiamo professato il giorno prima e abbiamo riconosciuto in queste persone. E quindi è questo il punto, dobbiamo far sì e dare questo messaggio ai giovani che devono scegliere da che parte stare, se da stare dalla parte della legalità oppure dalla parte del privilegio, del compromesso, dell'indifferenza, della rassegnazione, della contiguità e quindi della complicità col sistema mafioso. Grazie a tutti.